...di nome è Park Higgin, di nazionalità e cittadinanza australiana e di 25 anni. I brani sono in questo ordine. Come primo brano è Bach, adagio e fuga dalla terza sonata in do maggiore. Secondo brano, Sivori, studio capriccio numero uno dall'opera al 25. Terzo brano, Lipizer, variazioni sostenuto veloce e vivace, la tecnica superiore del violino. E come ultimo brano, Mozart, concerto in la maggiore, KV219, primo movimento, e cadenza di Higgin Park. E sarà accompagnato dal pianista sinistro. E sarà accompagnato dal pianista sinistro. e revisione a cura di QTSS. L'opera alь Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.